E' morta Elisabetta II, la regina del Regno Unito di Gran Bretagna Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Aveva 96 anni. Il decesso si è verificato oggi, giovedì 8 settembre. Qualche ora prima i medici si erano detti preoccupati circa le sue condizioni di salute e hanno chiamato a raccolta tutti i suoi familiari che si sono precipitati al castello di Balmoral, in Scozia, dove, Elisabetta si trovava per le sue vacanze estive. Dopo la morte del marito Filippo, ha cercato di partecipare quanto più possibile agli eventi pubblici, poi a febbraio la positività al Covid, che, come ha detto lei stessa, l'ha lasciata esausta. La sovrana ricevette la corona nel 1952, appena cinque anni dopo il suo matrimonio con il principe Filippo Mountbatten, quando aveva poco più di 25 anni, alla morte del padre, Giorgio V. A rendere nota la notizia è stato Sir Christopher Jade, segretario privato di Sua Maestà, che ha telefonato al primo ministro britannico pronunciando le parole London Bridge is down, letteralmente il ponte di Londra è caduto, messaggio in codice per annunciare il decesso di Elisabetta e l'inizio dell'operazione London Bridge, che sarà attuata nei prossimi giorni. Negli ultimi istanti di vita, la regina è stata circondata dai suoi familiari, a partire dai figli Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo e i nipoti William e Henry, e dal professore Hugh Thomas, il medico gastroenterologo che per anni ha seguito la paziente reale.